No, ci vergogniamo, è perché altri componenti della pace umana di passato hanno scritto il mio e più vivere della storia della regione. Però io non ho mai avanti. Allora, io ho fatto me, perdone della tenero, e come diceva che ho detto, ragazzi, rispondatevi come sono fatte le cellule, ricordatevi che c'è il nucleo e ricordatevi che il nucleo ci sono i geni, quei geni che sapivissono che noi abbiamo quelli azzurri, oppure neri, capelli, fiondi, la pelle è chiara, o che va là o meno. Bene, allora, quei geni, sappiamo perché non esistono differenze e tagli della pace umana che si possa parlare di marza. La ragazza umana è una sola, non ce ne sono altre. La genetica ha dimostrato in modo incontruttabile, ragazzi, a dare a fare la storia di questo, che i nostri insegnanti, magari l'avete già fatto chiedertati in questo campo, la genetica ha dimostrato in modo incontruttabile che siamo tutti nati da un gruppo di persone, a partire alla specie umana, che sono nati, non sappiamo come, ma che credo che gli altri magari sono ancora dubbiosi, in ambito. Siamo tutti nati da lì, non ci sono alternativa. Le differenze sono nati esclusivamente perché da lì poi la specie umana ha il falso. il pianeta c'è, e lei mi padre, il pianeta c'è, si è trovata di fronte a corruzioni climatiche, a tante situazioni che hanno modificato, ascoltate breve, il 5, 10, massimo, 12% della conferenza genetica originale. Guardate che se noi andiamo a fare la conferenza genetica di due di voi e le confrontiamo, le differenze saranno maggiori rispetto al fatto dei vostri geni con il vostro compagnetto Cienze o con il vostro compagnetto Cienze. Ci saranno meno differenze. Allora, questo è fondamentale per tutti noi, non ci sono più di certezze nei dubbi. Cosa vuol dire tutto ciò? Di cosa stiamo continuando a parlare? Stiamo continuando a parlare non di grazie, ma di razzismo, che è un'altra cosa. Stiamo arrivando a parlare. Grazie. Il razzismo, che è un razzismo, è un razzismo, è un razzismo troppo più bravi. Quelli che adesso sono i nostri amici tedeschi, ma allora hanno avuto questa situazione e non sono riusciti a reagire, di differenze legate a due cose, a paure, a paure della diversità, a paura di qualcuno che è valentino di questo dalla nostra, a qualcuno che apparentemente è così diverso da noi che ci sembra una idea di una nonata, ma non è così. E allora, sul razzismo è importante, ragazzi, che impariamo e stare insieme, conoscirsi e costruire insieme è la cosa più bella che nella nostra vita possiamo fare. Io credo che è un'altra domanda, 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 è una domanda, è un'altra 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 domanda con i nostri artisti, e sono sicura che anche l'archivo dello Stato può farlo. Mi leggo quello che è stato l'attestato, che noi abbiamo dato, a due figli di un docente dell'Ateneo Badelitano, espulso perchè è ebreo. Il memoria delle leggi marziali italiane, volute dalla dignatura fascista e firmate dal Preventorio Normale III, il 5 settembre 1908, il lettore a nome di Università dei Studi di Cagliari, riconoscendo la responsabilità dell'antereo per gli altri che viderano il mondo académico inerte e complice verso le scelte delle prime che giusero all'immanazione dei pericoli anziani, chiede ufficialmente scusa alle famiglie di docenti allontanati dall'insegnamento universitario di 1908. Per noi Don Averi, Alberto Pinterne e Camilla Piterro.